Assicurati che la stampante sia accesa. Apri il coperchio frontale. Le cartucce si muoveranno verso il centro della stampante. Premi verso il basso la cartuccia da cambiare. Togli la vecchia cartuccia. Inserisci la nuova cartuccia. Spingila verso l'alto finché non si blocca. Le cartucce devono essere inserite nella loro corretta posizione, nero e colore. Comunque non sarà possibile inserire una cartuccia nello slot di un colore diverso. Chiudi il coperchio della macchina. La macchina è pronta per stampare.